Sono stati una delle coppie più amate e seguite di Temptation Island. E proprio in queste settimane hanno annunciato di aspettare un bebè. Si tratta di un maschietto e nelle ultime ore i due futuri genitori hanno rivelato quale nome hanno deciso di dargli. Ormai manca poco alla nuova edizione del reality dove diverse coppie mettono alla prova la loro relazione in mezzo a tentatori e tenatri. Mentre stiamo conoscendo in queste ore le nuove coppie di Temptation Island che inizierà il 13 giugno sempre con la conduzione di Filippo Bisciglia, Carlotta dell'Isola e Nello Sorrentino continuano a far parlare di sé. Lei, dopo aver partecipato al reality nel 2020, è entrata nella casa del GF VIP. Recentemente si era parlato di una crisi tra i due, ma ora sembra tutto superato. E adesso sono più felici che mai. Nelle scorse settimane Carlotta dell'Isola e Nello Sorrentino hanno annunciato con grande gioia di aspettare un bambino. Tutte le cose belle a questo mondo sono iniziate con un sogno, quindi tu tieniti stretta il tuo. Presto in tre hanno scritto in un video dove si vedono i due che toccano la pancia, poi si tengono per mano e passeggiano in riva al mare. Poi hanno rivelato che si tratta di un maschietto. E adesso annunciano il suo nome. Con un altro post su Instagram, Carlotta dell'Isola ha voluto far sapere a tutti il nome del bimbo che porta in grembo. Il bambino si chiamerà Nicolò come mostra un bigliettino in cui è scritto, Nicolò, papà ti ama e anche la mamma. L'Ex-Temptation Island ha anche pubblicato una foto in cui mostra la pancia che si sta gonfiando sempre di più. Per Carlotta e Nello la gravidanza rappresenta una grande conquista. Lei infatti ha rivelato poco tempo fa di aver avuto diversi problemi, un giorno inizi a provarci, inizi a fare delle visite e puff, ti arriva la doccia fredda, difficilmente riuscirete a concepire un bambino in modo naturale. Allora inizi con analisi, visite, punture. Diventi una vera e propria cavia umana. Ma ti convinci che ne valga la pena, sacrificare tutto per una causa così grande. Peccato che una cosa che nessuno ti dice quando inizi questi percorsi è che se non sei attento, ponderato, finirai per distruggere tutto quello che hai costruito fino a quel momento. Compreso il tuo matrimonio. E beh, noi ci siamo andati vicino. Io ci sono andata vicino. Ora, invece, per fortuna tutto volge al meglio. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.